è stata una giornata stupenda abbiamo avuto una giornata di sole su un campo fantastico che è quello di gardagolf ho visto bellissima gente tanta gente che si impegna per una causa molto importante e quindi riuscire a divertirsi e passare una bella giornata con amici facendo del bene diciamo che è anche una fortuna una fortuna per noi grazie